Si accende il Natale sui Monti Dauni che, malgrado la pandemia, non rinunciano alle tradizioni e alle atmosfere che da sempre hanno caratterizzato questo periodo dell'anno. La Proloco di Accadia, una delle associazioni di promozione turistica più attive sul territorio dei piccoli borghi del subappenino Dauno, lancia un concorso, tutto online, che vedrà in gara due categorie di partecipazioni, presibili più caratteristici e alberi di Natale più belli. A causa della pandemia, le attività della Proloco in occasione delle festività natalizie hanno subito una battuta di arresto. Ogni anno ci siamo preparati al Santo Natale con corsi di arte presepiale, mostre e tanto altro che ci hanno consentito di incontrarci. Ora possiamo fare alcune cose solo online. Non dobbiamo però perdere la gioia e la serenità che può darci il Natale e che sarà come una carezza sul cuore di quanti soffrono. Prepariamo in casa i nostri alberi, ma soprattutto il presepe, parte emozionante della nostra cultura e della nostra memoria. Queste le belle parole con cui conclude il suo intervento la presidente dell'associazione Concetta De Bellis nel lancio dell'iniziativa. Chiunque di noi quindi può partecipare alla gara collegandosi alla pagina Facebook della Proloco di Accadia e seguendo il regolamento. In fondo, come diceva William Thomas Ellis, è il Natale nel cuore che infonde il Natale nell'aria. Grazie. 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 Grazie.